Conto alla rovescia per la 48esima edizione della Sagra di Torano Nuovo, la Sagra che oramai ha reso famoso la tipicità di quel territorio in tutt'Abruzzo ma anche oltre. Sindaco di Giacinto, dopo le dimissioni del direttivo della Proloco c'era stato un momento per cui la Sagra rischiava di andare in stand-by. Per fortuna, dopo la fruttuosa collaborazione lo scorso anno tra Proloco e Associazione Commercianti, quest'anno lei ha deciso di affidare totalmente in mano all'Associazione l'evento. Ed è tutto pronto? Sì, tutto pronto. Come ogni anno i preparativi e l'organizzazione ormai è una macchina rodata. Dopo la prova dell'anno scorso in cui l'Ascom ha collaborato con la Proloco, quest'anno per vari problemi la Proloco ha perso alcuni membri del direttivo. Quindi non c'è stato tempo per riformare un nuovo direttivo che magari non era pronto per la manifestazione. Abbiamo deciso di dare l'organizzazione all'Ascom che già sta portando a termine tutto il lavoro che ha iniziato nel mese di giugno. Ogni angolo del paese sarà sfruttato, fatta eccezione di Largo San Flaviano, per questioni legate soprattutto a un eccesso di cautela, se vogliamo, per le vie di fuga. Sì, forse a un eccesso di cautela ma anche dovuto agli incresciosi fatti di Torino che hanno portato a prendere delle misure di sicurezza che prima erano impensabili. Abbiamo riconfermato tutti gli espositori, tutti gli stand per quanto riguarda la 48esima Sagra di Torano. C'è una novità che è la Via dei Vini, che l'associazione organizza la promozione delle aziende di Torano e anche della Val Vibrata con un allestimento dell'Associazione Italiana Sommelier che ci verranno a dare una mano nel servizio. C'è anche una novità riguardo alla musica, non verrà allestito il Pasco in piazza ma sono stati individuati quattro punti musica in cui suoneranno questi gruppi da terra in mezzo alle persone, che sarà una cosa molto simpatica. Riconfermato il DJ Campa, il dopo Sagra. Da sottolineare un altro aspetto importante, quello della piccola industria, grande industria, lo potremmo definire tale, per Torano che muove 500 lavoratori più l'indotto. Per cui davvero ci sarà anche una risposta occupazionale per il periodo di Sagra. Sì, questa è una manifestazione che per Torano è fondamentale. Verranno allestiti tanti di quegli stand, ubicati tanti posti di collaborazione che per il Paese è una grande risorsa. Dunque appuntamento alle ore 18 con il taglio del nastro il 12 agosto e sarà festa fino al 17.